Svolta nel caso del cadavere ritrovato la mattina di venerdì all'interno della fabbrica ex Brenta a Cerro Maggiore da tre ragazzi che stavano girando un videoclip musicale. Da quanto emerso dall'autopsia di questo weekend all'ospedale di Pavia condotta appunto sul corpo ritrovato quasi interamente carbonizzato si può parlare di omicidio. Questo perché sul cadavere sono stati trovati elementi che hanno confermato come l'uomo ancora oggi senza identità sia stato colpito probabilmente alla testa prima di essere stato avvolto dalle fiamme. Qualcuno l'avrebbe quindi ucciso altrove per poi portare il corpo nella ex fabbrica e a piccare il fuoco. Gli inquirenti ossia i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano e quelli della compagnia di Legnano proseguono le indagini. Punto importante sarà trovare l'identità del cadavere così da capire chi sia e da lì passare agli approfondimenti. La pista dell'omicidio stava prendendo sempre più piede in quanto intorno all'uomo non era stata trovata una tannica di benzina né nessun altro contenitore di liquido infiammabile. L'area non sembrava poi essere abitata da senza tetto. Che qualcuno avesse ucciso quell'uomo per poi dargli fuoco pareva essere quindi l'ipotesi più probabile. E ora è arrivata la conferma. Grazie a tutti.